si seguo perché sai avendo giocato tanti anni lì so delle vicistitudine che ci sono l'impresa è difficile provare a arrivare play out per loro è la cosa principale domenica secondo me ha fatto un ottimo risultato adesso ha bisogno di vincere qualche scontro diretto che ha e quelli sono i partiti determinati quindi gli auguro di fare più punti per arrivare a questi play out e poi giocarsi alla fine alla fine poi sono due partite secche e quindi tutto può succedere nel calcio quindi glielo auguro anche se poi io devo pensare a qualcosa di diverso in questo momento che il porto san del pidio e sperare di fare qualcosa con loro di buono gli auguro di arrivare il prima possibile al raggiungimento di questi benedetti play out perché secondo me l'obiettivo minimo è quello in questo momento arrivare a centrale play out che non è non è semplice